Buongiorno amici, passata è la tempesta ma non odo a Ugelli far festa e non vedo neanche la gallina tornata in sulla via che ripete il suo gesto. Scherzi a parte ragazzi, sto andando a lavorare, oggi però non mi sentirete, oggi è un turno di redazione, però quando questi turni si gettano le basi per le puntate successive di Nota la Nota, un po' di spunti, un po' di idee e un po' di argomenti da trattare nei prossimi lunedì. E vi ricordo l'appuntamento lunedì dalle 21 alle 22 con Nota la Nota e sarà molto interessante la prossima puntata. Bene, noi ci sentiamo in radio invece sabato dalle 16 alle 18 e dalle 20 alle 22 perché anche domani sarò a lavoro ma sarà un turno sempre così, di redazione, no microfono, d'accordo? Buona giornata a tutti amici, a presto!